Sì, Campiello, lanciamo verso l'antirigore, costretto uscita fuori dai pali, non so perché Paragotti, la blocca, il miracolo, il miracolo di Grimes, Craia, limite dell'area di rigore, il tiro, la palla gestibile, pochi centimetri più in lato, il fischio dell'arbitro, si arriva dentro l'aria, ci arriva Mancini, ed è gol, ed è gol, cambia in tutta l'età, la battuta dentro l'aria di rigore, il pallone che resta lì, Sannia, la intercetta dentro l'aria del tiro, sulla linea Dota, con Peragotti.